Di questa nomina devo ringraziare innanzitutto i presidenti della Confederazione dell'Emilia-Romagna e di tutte le loro province che hanno deciso con me di intraprendere questo percorso e soprattutto vicino a me ci saranno gli amici Gilberto Luppi della LAPAM di Modena che sarà vicepresidente vicario, l'amico Luca Morigi della provincia di Forlì che sarà anche lui vicepresidente come anche l'amico Graziano Gallerani per la provincia di Ferrara comunque tutti comporranno la giunta, tutti saremo chiamati a lavorare e certamente ne uscirà un lavoro corale il percorso certamente sarà fatto sulla traccia di quanto intrapreso e deciso anche con Marco Granelli che mi ha preceduto e che ha preceduto la gestione di questa confederazione regionale e quindi fianco a fianco con il segretario Amilcar Erenzi Per quanto riguarda i rapporti con la Regione Emilia-Romagna e con i suoi amministratori auspico di continuare i rapporti che ci sono stati con il mio predecessore Marco Granelli e col segretario che resterà Amilcar Erenzi in particolare con l'assessore Colla è stato instaurato un ottimo rapporto io spero di poter essere in grado di continuare su quella scia è un rapporto costruttivo che ci ha visto molto spesso collaborare anche se in alcuni casi, non dico supposizioni avverse però con vedute leggermente difformi naturalmente noi dobbiamo portare avanti le istanze di molti tipi di categorie che oggi stanno soffrendo molto a causa di questo lockdown a causa dei ristori e quindi ci sono molti problemi da risolvere che non vogliamo certamente risolvere in contrapposizione ma seduti a fianco per intraprendere un cammino di risoluzione dei problemi